In questo primo video sulla radiestesia andremo a parlare dello strumento principale, quello che io uso, non usando ancora il Piotensor, ma lo userò, è il pendolo. Il pendolo è un qualsiasi oggetto collegato a un filo in un punto perfettamente centrale. Vedete come in questo caso. Il pendolo è dotato di una catenella di lunghezza parviabile, ce ne stanno anche di 20-30 cm, ma ovviamente non serve tutta la catenella per usare bene il pendolo. Può essere fatto in cristallo, può essere fatto in pietra, addirittura in legno, può essere anche semplicemente un bullone attaccato a un filo, una chiave. Io una volta avevo la necessità di usare un pendolo, non avevo questo pendolo con me e andai addirittura ad usare le cuffie del cellulare con un risultato precisissimo. Quindi vi faccio capire davvero come qualsiasi cosa, qualsiasi peso attaccato a un filo, può essere un pendolo. Anche una semplice palla, anche una normalissima biglia di quelle che si usavano al mare sui solchi. Che altro dire? Il pendolo appunto, in questo caso un pendolo in ottone che stava all'interno di un libro, ma va benissimo lo stesso. Prima di farvelo vedere è stato purificato sotto l'acqua. Può essere messo anche all'interno di un quadrante radionico, che poi vedremo più avanti, ma intanto vi do un assaggio. Potrebbe essere qualcosa tipo questo, un decagono valorizzatore, con tre decagoni appunto, e un cerchio che concentra la forza al centro di questa figura. Allora, si mette qui il pendolo, ma anche un bicchiere d'acqua, o anche un testimone, e questo si valorizza, quindi prende forza. Mettiamo a posto lo schema e vi faccio vedere l'utilizzo base del pendolo. Allora, ovviamente il primo esercizio che si fa fare è il sì o il no. Eccolo qua. Questo è uno dei tanti quadranti che potrete trovare su internet, si possono anche fare da soli, quindi assolutamente c'è ampio margine di possibilità appunto di creare il proprio quadrante, tenendo in considerazione il fatto che la tiestesia e la radionica hanno campi di applicazione praticamente illimitati. Allora, in questo caso faccio una domanda su di me, il testimone non c'è, nel senso sono io, sto lavorando su di me. Quindi voglio farvi vedere il primo approccio base, quindi la prima domanda semplice, quindi schiena dritta, gambe non incrociate, piedi ben saldi a terra. Allora, la prima domanda è sono Emiliano amici? Aspettate che mi metto in favore di... Sono Emiliano amici? E' ovvio che il pendolo mi dice sì. Sono una donna? In primo questa volta io poi vi spiego. Ho chiesto se sono una donna e naturalmente mi dice no. Poi chiedo, sono un uomo? Vedete il pendolo proprio come cambia? E come punta verso il sì. Adesso il pendolo si può fermare. E ok. Questo ovviamente è un utilizzo molto molto base. Avrete notato dei piccoli movimenti della mia mano, tranne il momento in cui io volontariamente imprimo il movimento. Tante volte alcune persone che vengono da me per vari consulti mi dicono sei tu che muovi il pendolo. Io dico sì, è vero, ma è irrazionale. Perché questo? Se voi date il pendolo e lo appendete a un manichino, il pendolo non girerà mai. Siamo noi con il nostro inconscio a creare di piccolissimi movimenti che ci fanno muovere il pendolo. Ma non siamo noi scientemente. Ok? Nel prossimo video, infatti, vi farò vedere come è possibile anche misurare il valore energetico di un oggetto. Vi farò vedere in caso questo. che è un ciondolo tibetano con dieci buddha disposti a cerchio e vedremo come si misura il valore energetico di questo oggetto, come si può caricare ulteriormente ma non troppo oppure scaricare se lo sentiamo eccessivamente pesante su di noi. Questa è proprio la lezione neanche base, proprio ultra base di come si usa il pendolo. Quindi, ricapitolando, il pendolo appunto è questo. è un qualsiasi oggetto appeso a una corda che, ripeto, può anche essere fatto in casa, può essere anche solo un nebulone. Una volta ho visto una persona addirittura con un cucchino da tè. Certo, il cucchino da tè non è il massimo, però in casi estremi, come si dice in questi casi, estremi i rimedi. Quindi, spero che questo primo video, anche un po' traballante, che io intanto sto usando quell'altra mano per reggere il cellulare, vi sia ovviamente piaciuto. Adesso vi farò vedere che cosa si può fare con il biometro di Bovì, che appunto serve per misurare le energie degli oggetti, degli animali, delle persone, addirittura dei luoghi. E quello è solo uno dei miliardi di campi di applicazione della radioestesia. A presto, grazie.